Ho scoperto un'app che ti rivoluziona la vita! Innanzitutto vai sull'App Store, poi cerca, pratica, scarica quest'app, aprila e qui ti verranno fatte alcune domande, come ad esempio la tua lingua nativa. Poi ti verrà chiesto il tuo livello di inglese, anche se poi verrà nuovamente ritestato. Seleziona quello che vuoi migliorare in inglese, ad esempio imparare nuove parole e tutti gli ambiti di cui vorresti parlare perché sono di tuo interesse. Scegli poi quanti minuti al giorno vorresti esercitarti. Grazie all'intelligenza artificiale verrà creato un avatar con cui dovrai comunicare, in modo da esercitare anche il tuo speaking. Ti verrà creato poi un piano personalizzato e mirato in modo da aumentare il tuo livello in poco tempo. E adesso ti mostro come avviene una conversazione con l'intelligenza artificiale. Howdy Eleonora, how's your day shaping up? Well, thank you. Today I went to the shopping mall to buy, I don't know in English, treppiedi. Ah, I see. You bought a treppiedi, which is called a tripod in English. Ah, tripod, giusto. Now, let's get started with our English practice session. Ed adesso potrai conversare con l'intelligenza artificiale e migliorare tantissimo il tuo inglese. Clicca in alto il link in biografia e scarica l'app. Ed ecco fatto!